Rubi! Hanno preso Zee! Ming! Ascoltami! Gli artigli della tigra! Rubi! Hanno preso! Hanno preso Zee! La troverò! È un bravo ragazzo Rubi! Lo sai vero? Certo! Tutta colpa del soffio del drago! Gliel'hanno offerto loro! Fermali Rubi! O gli faranno del male! Non gliele faranno! Te lo prometto! Sei diventata matta! Prima Huckers, un tipo non proprio raccomandabile, e ora Pelham e i suoi scagnozzi! Ascolta, Giun lì è morto! Di male in peggio! Rubi! Non sono come i Dublin Marauders! Questi tizi non dimenticano! Puoi aiutarmi o no? Sai cosa mi stai chiedendo? Sto chiedendo il tuo aiuto! Ti ho già spiegato la situazione! Vuoi che te lo ripeta? No, non è necessario! Ascolta, non voglio mischiarti ulteriormente in questa storia! Dimmi solo dove posso trovare Pelham e farò io il resto! Lo sai che se ne attacchi uno, li attacchi tutti! È quello che spero! Certo! Come no! Dovrò mettere in moto la barca! C'è un conservificio nella zona oltre! orientale del porto! È lì che si trova la base temporanea degli artigli della tigre! Se non ricordo male, lì potrebbe nascondersi un intero esercito! Se cerchi Sorrel, dovresti trovarlo lì! È bella? Non ne ho idea! Non ho trovato informazioni su di lui! Ma sono giunte le notizie su Giun lì e la gente lì non è molto contenta! È tutto? Sì, è tutto! Ah, Rubi! Stai in guardia! Sì, è tutto! Andiamo! E' stato un po' di più! 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 Sì, scuola! Fantastico! ... 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 Cerchi di mancarmi? Merda! Eccidio! 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 Grazie a tutti. Proteggete le porte! Proteggete le porte o rimarremo isolati! Sono gravemente ferito! Aiutatemi! Proteggete le porte! Venite qui, soffritevi le spalle! Sous-titrage ST' 501 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 Combattete come i vestiti a lo scoprano, lenti e mosci. Perfetto come i vestiti a lo scoprano, lenti e mosci. Che piacere rivederti, bocconcino. Ora il cacciatore diventa la preda, e ora cosa ha intenzione di fare? Potrei confeccartelo nella gola. Oh, davvero divertente. E poi cosa fai? Poi lo spingo con forza e lo estraggo assieme al tuo stomaco. E mentre tu ti diverti guardando il tuo stomaco penzolare dalla tua bocca, inizierai a morire dissanguato molto lentamente, con zero possibilità di salvezza. Sei pazzo? Completamente pazzo? Sono molto incazzata, ed esigo delle risposte. Dov'è, Helen? Ti farà male, sempre più male, te lo assicuro. Dannazione! Ho la intenzione di attaccare Hackers stasera. È tutto quello che so, lo giuro, ve lo giuro, non so altro. Sei davvero uno schifo d'uomo. Lo sapevi? Provo quasi pietà per te. Sì, per favore, pietà! Non illuderti, ho detto quasi. No, 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 no!